L'Assemblea Nazionale di Anci è sempre un grande evento, soprattutto perché rappresenta un momento di confronto tra i primi cittadini di tutta Italia. Il Sindaco di Arezzo da oggi fino a venerdì sarà presente a Bergamo all'Assemblea annuale, dove rappresenterà la città di Arezzo. Dopo Arezzo 2019, che è rimasto uno dei più grandi eventi organizzati in città, oltretutto ultima edizione pre-pandemia e Parma 2021, ora tocca la città simbolo del disastro pandemia. Quella città le cui immagini sono ancora impresse nelle menti di tutti, con i camion che portavano via decine di persone che avevano perso la vita proprio per la pandemia. Il confronto è iniziato oggi con la cerimonia di apertura alla presenza del Presidente della Repubblica. Il Sindaco di Arezzo interverrà domani pomeriggio. L'intervento sarà incentrato sui progetti di Arezzo per l'efficientamento energetico. Peraltro Arezzo, proprio in questi giorni, ha scalato numeri importanti nelle classifiche più rappresentative, in primis quella di Lega Ambiente, proprio per questo tema. Altro punto che sarà discusso, quello del turismo. Il Sindaco di Arezzo, come ha scritto sulla sua pagina Facebook, ne approfitterà anche per ringraziare il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che ha patrocinato Arezzo Città del Natale, riconosciuta come una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale per il periodo pre-natalizio.